Coglioni, giochiamo a fare la guerra? Coglioni, giochiamo a fare la guerra? Icardi, Andanovic, Spalletti, sempre rompere i coglioni alcuni tifosi dell'Inter, avete rotto due paia di minchie, ok? Vi dovete dare una bella, bella, lunghissima, lunghissima pausa adesso, fate una bella pausa di riflessione, ripassate bene il gioco del calcio, ripassate bene tutto quello che deve fare un centravanti di una squadra di calcio in una partita di calcio o quello che deve fare un gran portiere, ok? Perché adesso non vi sta andando bene niente, fate una lunga pausa di riflessione, riflettete, se davvero vi stanno sul cazzo questi giocatori, allora cercate di cambiare soggetto, perché è bello anche cambiare soggetto, non si può tutta la vita a parlare male di altre persone che ci stanno sul cazzo, dai ragazzi, poi un'altra cosa, me la devo togliere, questo sfogo che ho, questa cosa che mi tormenta stamattina quando ho visto quella cicciona brutta cogliona a predapio, che invece che andare su una cripta o una tomba del nostro grande e glorioso benito, ti vai a mettere quella cazzo di maglia che offende milioni di persone, tu proprio non hai capito un cazzo del fascismo, tu non sei fascista, tu sei una cogliona e basta, una cogliona cicciona, tu di fascismo non hai, devi andare, devi tornare a studiare, ma studiare, studiare tanto tempo, poi vai e torni a predapio, prima vai a Auschwitz, resti là un po', entri dove c'è l'Auschwitz, sai già dove devi entrare e stai là un mesetto, chiusa dentro da sola, ok? Poi torni qua in Italia e ti iscrivi a una scuola dove insegnano la storia del fascismo, poi vai a predapio e vai a pregare in silenzio, in silenzio con massimo rispetto sulla tomba del benito, ok? Adesso ti lascio e grandi coglioni anche servizio d'ordine che hanno permesso alla cicciona di indossare e andare in giro a fare la pagliaccia con quella maglietta lì, ok? Ciao, vi lascio.